Benvenuti, siamo con il professor Giovanni Mento, psicologo e docendo presso l'Università di Paola, coordinatore del gruppo di ricerca NeuroTel. Benvenuto, professore. Grazie, grazie a voi per l'invito. Sempre un piacere essere vostro ospite. Professor Mento, in una precedente intervista abbiamo parlato di cosa fosse l'attenzione e del suo funzionamento. Purtroppo a volte ci sono dei funzionamenti attivici, come nel caso della DHD, nel disturbo da deficit di attenzione e di interattività. Un disturbo del neurosviluppo. Ci spiega cosa accade nelle varie fasi di crescita? Sì, grazie per la domanda. Allora, innanzitutto una brevissima introduzione su che cos'è la DHD. Appunto, come lei ha detto, si tratta di un disturbo del neurosviluppo, quindi di una condizione che non è identificabile come una malattia o una patologia in sesso stretto, ma è proprio una traiettoria di sviluppo atipica che caratterizza una parte abbastanza prevalente della popolazione a livello mondiale. Parliamo di circa il 4-5% secondo le ultime stime attendibili. La caratteristica di queste persone, parlo di persone perché non si tratta soltanto di bambini, ma noi ora abbiamo capito da non troppo recentemente che, insomma, è una condizione che, in quanto legata allo sviluppo, al neurosviluppo, tende a mantenersi fino all'età adulta. Ovviamente, quello che accade è che c'è un cambiamento, una trasformazione del modo in cui le persone esprimano questa condizione sulla base, in parte del contesto in cui vivono, in cui agiscono, nel contesto sia culturale in senso lato, ma sia anche del micro contesto familiare, lavorativo e così via. In parte proprio perché c'è una trasformazione che ha a che fare con i cambiamenti neurobiologici che normalmente avvengono nel corso del neurosviluppo. La caratteristica principale che di solito si osserva è un po' la compresenza di almeno due assi principali che sono quello da una parte della disattenzione, quindi parliamo di persone che hanno una difficoltà che va al di là di quella che è la normale difficoltà che tutti noi possiamo avere legata alla variabilità individuale, no? Quindi proprio una incapacità a mantenere il focus dell'attenzione a lungo o comunque per tempi sufficientemente lunghi per l'apprendimento o per lo svolgimento delle normali mansioni, ma anche per le relazioni sociali. E dall'altra parte abbiamo degli aspetti che sono più, se vogliamo, legati al comportamento, quindi più osservabili dal punto di vista comportamentale, che sono quelli legati alla manifestazione di aspetti di iperattività, anche motoria, quindi una delle cose che classicamente viene riportata dai genitori in fase di diagnosi è quella del bambino che ha il motorino interno, il bambino che non sta fermo un attimo e anche un po' dell'impulsività, quindi questa tendenza prima a fare e poi a pensare. Ovviamente si tratta di bambini che non solo sono bambini normalmente intelligenti, spesso hanno anche un livello di intelligenza superiore alla media, si tratta di bambini che sanno benissimo, hanno appreso quelle che sono le regole del vivere comune, che però, ciò non di meno, fanno fatica a utilizzarle. Ora, tornando alla domanda, un aspetto fondamentale è questo, che noi da una parte abbiamo dei criteri che ci permettono di fare una diagnosi, sono dei criteri condivisi con la letteratura internazionale, abbiamo una manualistica, quindi la diagnosi significa che bisogna verificare se questi criteri sono soddisfatti, però al netto di questo, un aspetto veramente fondamentale di cui non sempre si tiene dovutamente conto è che il modo in cui questa condizione viene espressa cambia fortissimamente da persona a persona, e quindi dire che due persone hanno l'ADHD fondamentalmente è come dire che due persone indossano gli occhiali, cioè entrambi sono caratterizzati dal fatto di avere problemi di vista, ma poi sono persone molto diverse tra di loro. Quindi questo significa che c'è una prima variabilità enorme, condizione individuale a parità di età, quindi possiamo trovare il bambino per esempio che esprime questa condizione prevalentemente con la componente di disattenzione, quindi è il bambino che è un po' con la testa sulle nuvole, è il bambino che tende a perdersi facilmente e che rimane sempre un po' indietro. Dall'altra parte possiamo avere dei bambini invece che esprimono prevalentemente la componente più esternalizzante, sono i bambini che sono più comportamentali, quelli di cui ti accorgi chiaramente in classe perché non riescono spesso a stare seduti e rispettare le normali regole del vivere comune. In più c'è una variabilità fisiologica che è legata all'evoluzione di per sé, al fatto che crescendo c'è uno sviluppo cognitivo che comunque segue una sua traiettoria in funzione anche delle stimolazioni ambientali, motivo per cui è molto più probabile che in bambini piccoli, piccoli significa dall'età prescolare fino all'età della scuola primaria, il disturbo si manifesta prevalentemente appunto con questa componente esternalizzante, quindi te ne accorgi perché è il bambino che fa fatica ad autocontenersi anche dal punto di vista emotivo. diventa un pochettino più difficile spesso la diagnosi quando passiamo all'età preadolescenziale e adolescenziale perché cominciano a prevalere un po' più spesso componenti legati in parte all'oppositività e un po' meno alla componente diciamo motoria, quindi sono bambini che dopo un po' spesso imparano anche ad autogestirsi in alcuni aspetti soprattutto se sono abbastanza seguiti. E poi c'è un altro aspetto legato all'ingresso nell'età giovane adulta per cui quello che spesso si osserva è che diciamo una manifestazione sintomatologica tende a deviare verso traiettorie che non immediatamente hanno a che fare con la DHD, quindi spesso abbiamo dei comportamenti che sono legati al comportamento di abuso di sostanze, comportamenti di devianza, ecco chiaramente questa non è affatto la regola, però quello che voglio dire è che il modo in cui si manifesta crescendo la DHD può cambiare moltissimo e questo vuol dire che la diagnosi di DHD si basa su alcuni criteri precisi ma poi è una diagnosi dinamica che deve tener conto di come la persona cambia in sintonia con l'ambiente in cui vive, in cui lavora, ecco. Professore, lei dice appunto prima che anche c'è una caratteristica impulsiva, ci spiega che cos'è il controllo cognitivo e come si strutturano gli alunni a DHD. Sì, il controllo cognitivo fondamentalmente ha a che fare con la nostra capacità di regolare non solo il nostro comportamento ma anche il nostro pensiero e anche le nostre emozioni, quindi il modo in cui noi tendiamo a reagire agli eventi e anche a prevedere quelle che possono essere le reazioni ambientali sulla base del nostro comportamento in funzione appunto del contesto ambientale. Tecnicamente il controllo cognitivo è stato studiato nel corso degli anni attraverso alcune componenti, diciamo alcune funzioni mentali che identifichiamo come costrutti, cioè come delle entità che in qualche modo sono misurabili attraverso degli strumenti standardizzati. In particolar modo una delle componenti che spesso vediamo essere disfunzionale nel caso della DHD è la parte legata al controllo inibitorio, quindi la capacità appunto di gestire l'intrusività dei pensieri nel momento in cui una persona deve svolgere un'attività continuativa nel tempo. Il classico esempio è il bambino che è in classe e non riesce a rimanere concentrato su quello che la classe sta facendo, quindi non solo su quello che la maestra, il professore sta dicendo ma anche su quello che è per esempio l'attività di gruppo in quel momento perché tende a distrarsi molto facilmente sulla base di elementi che distraggono dall'ambiente. L'altro aspetto fondamentale è la flessibilità cognitiva, quindi la capacità di cambiare prospettiva sulla base delle richieste ambientali, quindi una capacità, cioè come dire, un aspetto tipico di questi bambini per esempio è l'iperreattività emotiva, il fatto che basta poco, tra virgolette, a mandarli un po' su di giri dal punto di vista emotivo e c'è una grande difficoltà a riadattarsi, a regolare le proprie emozioni sulla base del cambiamento del contesto. Classicamente una delle cose che noi abbiamo anche osservato negli studi che abbiamo fatto in collaborazioni con le scuole è che bambini anche non necessariamente con la diagnosi, diciamo, di HD, ma con una difficoltà abbastanza importante sul controllo cognitivo è quello di riuscire a, diciamo, flessibilmente ad autoregolarsi nel momento in cui si passa da un contesto di gioco, quale può essere l'attività motoria, la palestra, al ritorno in classe, quindi cercare, come dire, di cambiare prospettiva sulle regole che si devono tenere in classe e quindi adattarsi al fatto che io sono in un contesto che in quel momento mi sta richiedendo un altro modo di comportarmi, ecco. Il controllo cognitivo è quindi un elemento fondamentale. Detto questo c'è da fare anche un chiarimento secondo me importantissimo, cioè il fatto che quando si fa una diagnosi di ADHD la diagnosi la si fa normalmente sulla base di alcuni appunto criteri comportamentali che si possono osservare sulla base dell'osservazione diretta o di quello che ci raccontano gli insegnanti, i genitori. Detto questo poi il modo in cui un bambino funziona dal punto di vista neuropsicologico, quindi su come appunto è il profilo di funzionamento del suo controllo cognitivo, è un aspetto che va assolutamente indagato ad persona, ma significa che non basta porre una diagnosi di ADHD per pensare di aver capito, di aver compreso come funziona quel bambino in classe o come funziona in altri contesti. Da questo punto di vista la diagnosi funzionale, quindi quella che si chiama anche diagnosi di secondo livello, è un passaggio fondamentale. Non solo per capire bene qual è il bambino che abbiamo davanti, ok, perché potremmo avere dei bambini che hanno magari più difficoltà sul controllo inibitorio e meno difficoltà su altri aspetti di funzionamento mentale, quindi dei punti di forza, ma diventa fondamentale nel momento in cui noi vogliamo capire come interfacciarci con questo bambino, sia come genitori, sia come comunità educante, sia come insegnanti in classe. Quindi per capire come aiutare il bambino dobbiamo capire come funziona al di là dell'etichetta, che è sempre il punto di partenza e mai il punto di arrivo. Ecco, lei diceva come aiutare il bambino, perché educare i bambini, i ragazzi a DHD, richiede una formazione specifica. Quali sono i suggerimenti che si senti di dare ai docenti, in particolare diversificandoli per le varie fasi d'età? Sì, allora il primo suggerimento che mi sento di dare è quello di cercare di evitare quello che spesso viene facile, cioè quello di attivare automaticamente una sorta di rappresentazione mentale del bambino partendo dalla diagnosi. Quindi sapere, per esempio, che in classe si ha un bambino che ha una diagnosi di ADHD, ma credo di poter dire lo stesso per tutte le casistiche, quindi anche nel caso di una certificazione per un disturbo dell'apprendimento o per una sindrome dello spettro dell'autismo, ecco, evitare di attivare immediatamente una sorta di quadro mentale di che cosa ci si dovrebbe aspettare da quel bambino, perché spesso finisce che si tende a voler confermare l'idea che si ha del disturbo più che la comprensione del bambino che abbiamo davanti. Quindi tutto deve passare per la capacità di capire veramente chi è quel bambino, il che richiede uno strettissimo collegamento da una parte con chi ha la presa in carico dal punto di vista clinico del bambino, quindi di chi si è occupato non solo della diagnosi, ma poi di impostare un percorso di intervento e quindi deve essere possibilmente reso noto alla scuola e di conseguenza all'insegnante qual è il livello di funzionamento di quel bambino, quali sono le circostanze che possono migliorare o peggiorare alcuni tipi di comportamenti e sulla base di questo si deve fare un discorso di intera comunità educante, significa da una parte i genitori, dall'altra parte i clinici di riferimento, dall'altra parte la scuola. Cioè il bambino deve essere sempre e comunque al centro di una comunità educante che si prende cura di lui partendo dal livello di funzionamento. Poi dal punto di vista forse un po' più pratico se vogliamo è quello di cercare di mettere in atto il più possibile delle strategie dal punto di vista didattico pedagogico che tendano ad agganciare il bambino, perché uno degli aspetti più rilevanti è che spesso questi bambini tendono a essere facilmente sganciabili dalla classe, nel senso sono dei bambini che tendono a perdersi molto facilmente, soprattutto nel caso di bambini che sono più sul versante della disattenzione, di cui spesso non ti rendi conto perché disturbano in classe, quindi apparentemente sono bambini che non sono un problema per la classe dal punto di vista della gestione, ma sono bambini che comunque rendono molto al di sotto di quello che potrebbe essere il loro livello in base alla loro capacità intellettiva e perché no anche le loro risorse sociali, emotive e così via. Quindi agganciare il bambino il più possibile, lavorare possibilmente sempre con dei rinforzi positivi e possibilmente non con rinforzi negativi, anche perché spesso la punizione serve ben poco e questo può essere spesso elemento di frustrazione anche generale della classe, perché di fronte a situazioni del genere spesso è difficile anche spiegare del perché un bambino non viene punito ugualmente a quanto potrebbe essere fatto in altri casi. È proprio qua che entra il discorso del collegamento con l'aspetto clinico e funzionale. In questi casi il rinforzo negativo purtroppo ottiene l'effetto contrario di quello che si dovrebbe sperare. La token economy per esempio è una strategia, diciamo una tecnica di rinforzo positivo in cui si procede un po' per piccoli obiettivi cercando di anche responsabilizzare il bambino, quindi dandogli un ruolo attivo all'interno della classe per valorizzare all'interno delle sue capacità e competenze il suo ruolo attivo. Anche l'apprendimento cooperativo è fondamentale, cioè quello di cercare di inserire il bambino all'interno di gruppi di lavoro, poi dipende chiaramente dall'età di riferimento, ma il punto è far cercare, cioè cercare di far sentire il bambino come parte di un gruppo e mai come il bambino che è l'elemento disurbante della classe. Questi sono diciamo dei consigli di massima, poi chiaramente è fondamentale sempre tenere conto del punto di vista degli insegnanti ed è fondamentale il dialogo costruttivo con tutte le parti in causa. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda, quindi avete detto la parte di intervento diretto degli insegnanti, ma oltre alla formazione è importante la strutturazione del setting scolastico, è un percorso con figure specialisti di supporto, come ci ha detto anche prima, ci dà alcuni suggerimenti? Sì, diciamo che secondo me gli attori che dovrebbero interagire per il benessere del bambino sono diversi, appunto abbiamo chiaramente la famiglia e la scuola in primis, però un aspetto veramente importante è che coloro che hanno gli strumenti per comprendere bene il funzionamento del bambino dal punto di vista della sua struttura cognitiva e emotiva sociale sono i professionisti che devono essere assolutamente chiamati in causa nei meccanismi didattici, quindi non si deve mai pensare di dire ok c'è l'ente, la sanità pubblica piuttosto che privata che ha emesso la diagnosi e ci ha fatto la relazione e quindi io a scuola sono chiamata a interpretare quella relazione e di conseguenza attivare un PDP piuttosto che altri tipi di interventi mirati e questo dovrebbe essere fatto di concerto, ci sono anche dei tavoli che sono pensati proprio per promuovere l'incontro, un altro aspetto fondamentale molto poco diciamo sfruttato almeno in Italia al momento è la presenza del famoso psicologo scolastico che è una figura che dovrebbe operare all'interno della realtà scolastica quindi conoscendo anche le dinamiche interne sia dal punto di vista proprio sociale che anche amministrativo, dell'offerta didattica insomma e dovrebbe in qualche modo fare da trade union e quindi da essere la persona che si fa carico di promuovere l'integrazione di quello che le varie figure possono offrire per promuovere il benessere del bambino. Quindi in poche parole la riuscita di un percorso scolastico e di conseguenza anche di un percorso individuale perché non ci dimentichiamo mai che alla fine per quanto questi bambini spesso sono al centro dell'attenzione perché tendono a essere elementi disturbanti in alcuni casi purtroppo sono loro i primi che pagano il fatto di avere una grande difficoltà a regolarsi in funzione del contesto e questo va spesso a scavito della loro capacità di autostima, di autoefficacia. Quindi se noi vogliamo promuovere delle traiettorie di sviluppo individuale prima ancora che scolastiche dobbiamo mettere il bambino al centro del nostro mondo e non pensare che debba essere necessariamente lui ad adattarsi alle dinamiche che lo circondano non perché questo non sia in assoluto giusto perché è quello che viene chiesto a tutti noi nella nostra società ma perché parliamo di bambini che hanno una difficoltà a farlo che va al di là della normale difficoltà che tutti noi potremmo avere. Questi sono bambini che capiscono cosa dovrebbero fare più degli altri ma hanno una grande difficoltà a mettere in atto delle forme di funzionamento cognitivo di adattamento comportamentale autoregolazione emotiva quindi pur volendo spesso non ce la fanno. ecco diciamo l'ultima parentesi quello che vi chiedo prima la propria organizzazione fisica della classe ha un valore o no per questi ragazzi? sì ha estremamente sicuramente ha un valore e allora questo è un aspetto anche da gestire insieme e insieme ai referenti diciamo della didattica cosa significa un aspetto che va gestito poi con l'insegnante che è in classe uno degli aspetti fondamentali è la grande capacità di distrazione che questi bambini hanno quindi cercare di favorire degli elementi diciamo strutturali di organizzazione della classe anche dal punto di vista fisico che tendano in qualche modo a non incentivare la distrazione potrebbe essere già un elemento importante. Cosa significa questo? Che se io sono in un ambiente percettivamente molto affollato in un ambiente che mi offre molti input visivi piuttosto che uditivi io quello che sto facendo è sto ulteriormente rendendo difficile una persona che già ha delle sue difficoltà importanti di stare qui e ora con noi in classe quindi il primo elemento è quello di cercare per quanto possibile di mettere di evitare eccessive distrazioni. L'altro aspetto è quello di appunto cercare di concentrare l'attenzione della classe intera e del bambino su degli elementi che non siano unidirezionali quindi da questo punto di vista per esempio la classica lezione frontale con l'insegnante che sta seduto la cattedra e tutto il resto della classe che sta dall'altra parte è diciamo un'impostazione classica che però ultimamente si è un po messo in discussione per esempio dal punto di vista dell'insegnamento universitario che è una cosa che mi chiama più in causa personalmente oramai da diversi anni stiamo sperimentando delle modalità didattiche alternative che sono per esempio la flipped classroom che significa per una volta inverti ruoli e quindi dalla cattedra ci sta ci sta il discente ci sta lo scolaro e questo in qualche modo può incentivare l'utilizzo la motivazione l'utilizzo la facilitare l'utilizzo l'investimento di risorse attentive quindi evitiamo tutto quello che vuol dire apprendimento passivo ok distrazioni dell'ambiente e cerchiamo di lavorare sul motivare e non soltanto con i voti e con l'idea che devi far bene perché altrimenti ti boccio perché sono elementi che non riescono a far molto leva ma cercando di lavorare sulla sull'emozione sull'emotività sulla cercare di sviluppare la passione per quello che si stanno insegnare coinvolgendo in maniera attiva tutti i bambini da questo punto di vista tutti trarranno beneficio ma soprattutto coloro che per costituzione per per modo di essere per condizione fanno una fatica molto maggiore a tutti gli altri che tuttavia sono quelli che hanno molto più bisogno di essere coinvolti grazie professore per che sia stato con noi e grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi